Uno degli abiti della principessa Diana, un pezzo creato da Catherine Walker, sarà messo all'asta da Julian's a Los Angeles. Si tratta di un vestito che Lady D'indosso in occasione di un evento privato nel 1993, il cui valore è stimato tra i 91.000 e i 182.000 euro. Recentemente la stessa casa d'aste ha venduto un pezzo dello stilista Jacques Asaguri indossato da Diana per oltre un milione di euro. Nella stessa battuta d'asta alcuni pezzi indossati da altre donne iconiche, come un taillor di Givenchy indossato dalla principessa Grace Kelly di Monaco.